Ragazzi mi raccomando seguitemi su Instagram per non perdere tantissimi contenuti esclusivi. Inoltre in descrizione nel primo commento trovate il link di accesso a un gruppo Telegram riservato agli iscritti del mio canale dove potete parlare di football con tante altre persone e ricevere tantissimi consigli sul Dream Team. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2023. Video aggiornamento molto molto rapido senza webcam in quanto il Dream Team di football 2023 si è aggiornato portandoci alcune novità a livello di pacchetti chiaramente e anche a livello di eventi. Prima di andare avanti invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e lasciare un bel mi piace per supportarmi. Ragazzi mi raccomando fatelo, questa parte è importantissima per la crescita del canale quindi se vi piacciono i miei contenuti non dimenticatevi l'iscrizione con la campanella attivata. Poi se volete dare un ulteriore supporto chiaramente non gratuito al canale tramite una piccola donazione ci sono gli abbonamenti. Trovate tutti i vantaggi e tutte le info cliccando il tastino abbonati a fianco al tasto iscriviti. Allora ragazzi non perdiamo ulteriore tempo, andiamo a dare subito un'occhiata alle novità di oggi e partiamo dalle novità più interessanti secondo me, ovvero i pacchetti, i nuovi pacchetti. Chiaramente non vi aspettate novità clamorose come nuove modalità eccetera in quanto per adesso ancora non ci sono questo tipo di novità ma arriveranno nei prossimi mesi. Però in ogni caso i pack Konami non li fa mai mancare perché chiaramente mica sono fessi, devono guadagnare. Quali pack sono arrivati oggi? L'avete letto nel titolo sicuramente. Giocatori epici del Milan. Andiamo a vedere chi hanno messo ragazzi. Ronaldinho Gaucho versione Milan, Sedorf e Cafu versione Milan. Andiamo a dare un'occhiata alle statistiche. Chiaramente partiamo da lui, da uno dei king di questo gioco. Ronaldinho Gaucho, io ce l'ho in versione Barca, però sono sicuro che anche in versione Milan sarà una carta super super rotta come lo è in versione Barca. Queste sono le statistiche. Chiaramente a 29 livelli, parte da un 85 di base di overall, quindi davvero vi potete sbizzarrire. Posizione consigliata, principalmente trequartista, ma addirittura potrebbe giocare anche come centrocampista, non difensivo chiaramente e poi potete metterlo sulla sinistra come seconda punta ragazzi e vi assicuro che comunque rende molto, è un giocatore molto versatile a livello di ruoli di attacco solo in punta magari è meglio di no perché è più adatto ad impostare, a skillare, a provare a tirare da fuori eccetera. Chiaramente punizioni, calci di rigore suoi è ovvio, a meno che non avete Neymar Leggenda in quel caso fateli battere a Neymar Leggenda che è più buggato sulle punizioni. Comportamento offensivo da uppare, uppategli non tanto la velocità che è senza palla ma quanto l'accelerazione, uppategli perché a un attaccante serve l'accelerazione e la potenza di tiro. Insomma e poi per il resto sbizzarretevi un po' in base al giocatore che vi serve in campo perché come dico sempre non dovete copiare di pari passo come livellano gli altri giocatori secondo me ma dovete livellarli in base al vostro modo di giocare, in base a quello che vi serve in campo. Andiamo a vedere chiaramente le altre leggende che poi leggende non sono ma sono giocatori epici che sarebbe una leggenda potenziata con più livelli all'ennesima potenza. Clarence Edro da una base di 82, ragazzi 38 livelli quindi sale tantissimo. Chiaramente è un giocatore che deve giocare a centro campo però potete farlo giocare anche sugli esterni a centro campo perché il gioco lo permette e chiaramente in teoria anche come mediano però non lo consiglio meglio utilizzarlo in fase offensiva che in fase difensiva. Ragazzi uppategli la velocità, l'accelerazione, comportamento offensivo insomma c'è da uppare un po' tutto quindi cercate di distribuire bene i punti senza incaponirvi su una determinata o su un paio di statistiche perché questo è un giocatore che secondo me gli va spalmato bene tutte le statistiche perché ha diverse cose comunque da compensare ma come ho già detto ha tanti livelli quindi tranquilli perché in ogni caso diventa fortissimo. Andiamo a dare un'occhiata chiaramente anche a Cafu perché Cafu non può mancare nel pack del Milan un terzino destro offensivo ragazzi quindi se giocate col mio modulo questo non è buono perché io gioco in difensivo con tre difensori centrali un terzino difensivo perché mi piace avere tutti i compatti tutti dietro ma quella è una scelta vostra se invece giocate con il modulo con i terzini questo è ottimo ragazzi come terzino offensivo chiaramente gli andate a uppare le statistiche offensive ma anche un po' le statistiche difensive perché comunque un terzino anche se offensivo non è che deve fare l'attaccante deve fare anche la fase difensiva tutta la fascia destra può essere sua da terzino fino a centrocampista laterale destro ci può giocare tranquillamente chiaramente ragazzi ormai lo sapete questi giocatori leggendari questi giocatori epici del Milan sono buttati sono tre e sono buttati in un poll di 150 giocatori casuali una spacchettata equivale a 100 monete 100 monete equivalgono a circa 1 euro 99 centesimo quindi ragazzi potete trovare un giocatore epico utilizzando solamente 2 euro 3 euro 1 euro cosa molto difficile ma potrebbero non bastare addirittura nemmeno 100 euro perché siccome il poll è da 150 spendendo 100 euro non avete la sicurezza di trovare un giocatore epico con 150 euro invece li trovate sicuro tutti e tre io vi consiglio a meno che non avete soldi in più soldi da buttare a meno che non siete tifosi del Milan avete questa necessità estrema di spacchettare di non farlo perché è uno scam cioè nel senso è molto molto difficile trovare qualcosa con meno di 50 60 euro poi ripeto ci sono alcuni di voi che hanno una fortuna indiavolata e trovano leggende giocatori epici con 2 euro però questa è l'eccezione non è la regola ragazzi ci vuole molta fortuna andiamo avanti quali sono le altre novità i worldwide di settembre del 15 settembre cioè di oggi c'è questo Lewandowski che sembra davvero tanta roba io chiaramente punterò a prendere Lewandowski nel prossimo episodio del Rottoglory perché secondo me con il gameplay attuale questo può essere uno degli attaccanti più forti del gioco insieme ad Alland attualmente perché colpi di testa eccetera eccetera questo non si può upare non a livelli non è un giocatore che cresce 97 di base dovrebbe arrivare a 100 nel modulo utilizzando il bonus del modulo del più 3 ragazzi guardate le statistiche forse un po' basso di velocità ma non importa perché tanto lui con quel fisico con quella stazza può avere anche un po' di velocità in meno che è devastante lo stesso perché si gira sempre di testa le prende tutte lui eccetera eccetera gli altri sono giocatori più o meno normali come Tadic, Andanovic non è tanto consigliato ci sono portieri molto più forti cosa avete Allison, Courtois e già ne ho detti due che secondo me sono quasi insuperabili Lacroix ecco qui questo giocatore è interessante ragazzi 1,90m velocissimo 88 di velocità un giocatore così alto questo è davvero interessante se lo trovate provatelo ragazzi se lo trovate provatelo perché secondo me questa è una delle sorprese di questo pack è fortissimo secondo me quali sono gli altri giocatori che possiamo secondo me ritenere interessanti De Paul sicuramente guardate che statistiche anche lui sicuramente meglio come centrocampista offensiva soprattutto perché non si può pare quindi non potete diciamo trasformarlo non potete modificarlo a vostro piacimento quindi dovete tenervelo così com'è ragazzi non ha diciamo grande altezza quindi non è ottimale nei colpi di testa non fatelo giocare da mediano deve giocare assolutamente come centrocampista centrale in fase offensiva con un modulo bello offensivo Rodrigo anche è un bel giocatore una bella carticina ragazzi interessante molto interessante anche lui secondo me assolutamente da provare e questo Badia Shail ragazzi si dovrebbe pronunciare così ma credevo meglio non è un gran che andiamo a dare un'occhiata anche alle altre novità ovvero gli eventi hanno messo dei nuovi eventi sia online che offline vabbè lo starter già c'è da tanto tempo poi c'è l'Italian League questo è un evento che si gioca offline contro l'intelligenza artificiale ragazzi queste sono tutte le squadre che potete incontrare 1000 punti 10.000 GP 2000 punti 10.000 punti esperienza per 3 3000 punti l'accordo al buio worldwide ai giocatori 15 settembre 2022 ovvero oggi i giocatori quelli dove c'è Lewandowski la Croaia e Andanovic eccetera e poi ogni 1000 punti 100 GP quindi questa è una cosa interessante un evento interessante perché vi dà la possibilità di aprire il quarto pacchetto anche se voi già avete aperto 3 pacchetti di quelli con i giocatori di oggi del 15 settembre con Lewandowski all'interno anche se ne avete aperti 3 con le monete se vincete questo evento se andate a vincere l'accordo al buio potete aprirne uno gratuitamente un quarto comunque ce n'è uno bonus poi c'è ragazzi questo interessante evento G League manco lo voglio far vedere se non mi sbaglio già pure è stato ma è veramente inutile si vince un accordo al buio 3 stelle è veramente inutilissimo questo worldwide clubs invece si vincono 50 monete quindi Konami continua a mettere 20 con in palio monete la prima volta 10.000 GP nella prima sfida la prima volta 30.000 GP nella seconda sfida nella terza sfida la prima volta 50 monete ragazzi quindi se non mi sbaglio il quarto evento commette 50 monete in palio di seguito quindi siamo già a 200 monete che in totale si sono vinte tra gli eventi passati e questo evento se non erro ragazzi non sono molte ma immaginate se lo fanno per altre 30 volte comunque accumulate più un sacco di monete potete aprire tanti pacchetti ragazzi come dico sempre non possiamo di certo aspettarci 200 monete in palio in un evento gratuito saranno sempre 50 forse più in là metteranno alcuni eventi settimanali con 100 monete in palio ragazzi queste sono tutte le novità del Dream Team di oggi non c'è nient'altro non hanno inserito nuovi obiettivi nuovi giocatori da acquistare nei pack degli obiettivi veramente c'è solo questo a livello di pacchetti però ritengo che ci siano alcuni giocatori davvero interessanti come ho già detto belli giocatori epici fortissimi ma difficilissimi da trovare quindi sconsiglio l'apertura di quei pack mentre consiglio tantissimo di aprire questi pack con all'interno Lewandowski e Lacroix perché Lewandowski e Lacroix secondo me sono baggatissimi quindi beato a chi li becca fatemi sapere chiaramente nei commenti quali pacchetti state aprendo se avete trovato qualche giocatore in particolare se avete avuto qualche sculata insomma fatemi sapere la vostra nei commenti io vi ringrazio per essere stati mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video un abbraccio e un saluto dal vostro SimoPlay bella ragazza ciao